Il trascentesco palazzo di Arnolfo a San Giovanni Valdarno, già sede del comune ed oggi restaurato e destinato a spazio museale, a mostre temporanee e convegni, ospita l'originale Museo delle Terre Nuove, il primo museo dedicato al fenomeno della fondazione dei nuovi centri abitati nel tardo medioevo, le Terre Nuove appunto, un fenomeno che interessò gran parte dell'Europa e segnò la sua rinascita dopo i secoli bui. In Toscana Firenze fonda numerosi centri tra cui Castel San Giovanni, l'attuale San Giovanni Valdarno, che con la sua topografia ben disegnata, con strade larghe ed ordinate che si intersecano ad angolo retto, divenne il modello per una nuova concezione di città. Sono molti i centri sorti in Toscana in quell'epoca, ricordiamo tra gli altri Pietrasanta, Vicchio, Scarperia, Terra Nuova, Bracciolini. Molti sono identificabili anche dal toponimo, per esempio Villa Franca, Castelfranco o Fribourg in Germania. L'amministrazione comunale di San Giovanni, che assieme alla regione toscana ha promosso e finanziato il museo, è fiera di aver concretizzato un progetto unico che racconta questa straordinaria storia. Questo è un museo che ripercorre la storia di San Giovanni, ripercorre la storia della nascita delle terre nuove, delle terre che in Toscana Firenze ha creato per creare avamposti nei confronti di una volontà d'espansione che c'è stata per lunghi anni. Naturalmente non è solo l'esempio la Toscana, in Italia ci sono altri esempi di terre costruite a questo scopo e anche in Europa. Però San Giovanni crediamo sia anche un esempio che è stato poi seguito successivamente e è anche per questo che abbiamo deciso di utilizzare il nostro palazzo comunale, il nostro più bel palazzo che abbiamo al centro della piazza proprio con questo scopo perché crediamo sia giusto ripercorrere la nostra storia e creare anche un motivo di attrazione ulteriore della nostra città nei confronti anche di turisti e di chi può essere interessato alla storia della Toscana e di un pezzo del nostro paese. Il progetto museale è stato curato da un prestigioso comitato scientifico di cui fanno parte specialisti nazionali ed internazionali. Il Museo delle Terre Nuove nasce grazie a uno sforzo e a un lavoro di altissimo profilo, di altissimo livello che tiene insieme un pool di specialisti sia a livello tecnico sia a livello scientifico d'eccezione da coloro che hanno progettato all'allestimento, al comitato che ne ha promosso come dire l'idea e sviluppato come dire l'idea embrionale e che ci auguriamo che quindi possa proseguire nella vita del museo portando quindi a un livello estremamente alto di tenore nazionale e internazionale la vita del Museo delle Terre Nuove ponendolo come esempio davvero da seguire sia a livello museologico che appunto di attività culturale in senso stretto. Le linee guida seguite nella progettazione del museo ce le illustrano l'assessore alla cultura del comune di San Giovanni Barbara Fabri. È un museo organizzato per aree tematiche che quindi dal piano terra in un percorso che poi si estende ai piani superiori fino al secondo piano dove c'è la sezione didattica dedicata quindi prevalentemente ai bambini ma in generale a tutte le scuole è organizzato un percorso dicevo per aree tematiche quindi si racconta la storia delle terre nuove appunto fiorentine da quella che è stata l'ideazione quindi l'ispirazione che poi ha portato alla fondazione delle stesse per scendere nel particolare ovviamente della vita di San Giovanni Valdarno come terra nuova fiorentina ed estendersi poi alle terre nuove dell'altra parte della regione Toscana fino ad arrivare alle terre nuove invece europee.